Buongiorno, ben tornato. Grazie mille, siamo ragazzi. Grazie mille. 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 Grazie a voi. Noi realizziamo l'ambiente più personale e privato della casa. Il Presidente della Repubblica. D'Italia, l'Italia, se destra delle monti, discipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chiama che schiava di Roma e Dio la creò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un incontro tra ingegno e industria favorito dal ruolo insostituibile dell'impresa. Auguro a tutti gli operatori e a tutti coloro che hanno creduto fermamente in questa edizione 2021 del Salone del Mobile un grande successo. Viva Salone del Mobile, viva la Lombardia e viva l'Italia. Milano si muove e con Milano torna a muoversi d'Italia. Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica per aver voluto essere tra di noi. A sottolineare ancora una volta la sua grandissima attenzione verso la nostra città e il valore di un evento che porta nel mondo un'immagine positiva del Paese e del suo sistema produttivo. La presenza del nostro amato Presidente è un invito a tutti noi a assumerci le responsabilità che derivano dal ruolo che oggi ha Milano. La nostra città deve voler guidare la ripartenza, deve indicare la via, deve mettere il peso del suo prestigio e le sue eccellenze al servizio del Paese. Signor Presidente della Repubblica, Presidente Fontana, Sindaco Sala, Presidente Bonomi, Presidente Pazzali, cari colleghi, autorità, rappresentanti del mondo delle imprese, delle università, delle scuole, della cultura. A tutti voi va il mio più caloroso benvenuto e ringraziamento per la vostra vicinanza e per essere qui con noi oggi. Sto violando il programma convenuto, non era previsto il mio intervento e quindi mi desidero esprimere l'apprezzamento e gli auguri per il Salone e per l'attività della Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza abitualmente da tanti anni, un punto di riferimento mondiale per il settore in cui il nostro Paese è all'avanguardia. Questa occasione che raccoglie coraggio di impresa, creatività, fantasia, cultura e di straordinario significato in questo momento del Paese per il suo rilancio e la sua ripresa. E in questo si esprime anche il ruolo della Fiera di Milano, punto di incontro e di raccordo che consente la protezione del nostro Paese verso i mercati internazionali, ma anche la sollecitazione per il mercato interno, per riprendere attività con pienezza e con successo. Non aggiungo altro se non ripeto l'apprezzamento per il coraggio e la qualità con cui si è dato vita a questo Salone e l'augurio per il settore e i complimenti per la Fiera di Milano. Auguri. Grazie.